benvenuti cari amici a questa puntata dell'approfondimento del catechismo della chiesa cattolica attraverso le domande del compendio del catechismo stesso quest'oggi siamo arrivati alla domanda numero 133 come regna ora il signore gesù vediamo subito la risposta signore del cosmo della storia capo della sua chiesa cristo glorificato permane misteriosamente sulla terra dove il suo regno è già presente come germe e inizio nella chiesa un giorno ritornerà glorioso ma non ne conosciamo il tempo per questo viviamo nella vigilanza pregando vieni signore gesù eccoci dunque a un nuovo passaggio importante del nostro studio del catechismo siamo all'articolo di fede che è contenuto anche nel credo niceno costantinopolitano quando diciamo di là verrà giudicare i vivi e i morti anche nel credo apostolico ovviamente diciamo questa verità e ci inoltriamo in questa grande verità in questo capitolo della dottrina cristiana gradualmente come sempre facciamo nel nostro catechismo vedendo anzitutto come il signore gesù regna ora nella storia dire regna vuol dire anche come è presente come opera termine regno è un termine che ricaviamo dalla bocca di gesù è lui stesso che si è presentato come regno di dio è vicino a voi il regno di dio questa la predicazione che da inizio anche alla missione di gesù il contenuto è proprio il regno e regno sta a indicare il possesso anche che il signore ha sul destino della storia sulla realtà stessa e quindi la sua capacità di essere presente e di agire e al di là diciamo dei nostri parametri del nostro modo di vedere le cose e all'interno stesso della realtà dall'interno stesso per cui diciamo che quello che è il potere umano o le vicissitudini di questo mondo anche se fanno molta impressione ci colpiscono e purtroppo in me spesso producono molti mali e molte ingiustizie tuttavia sono un'apparenza rispetto al vero regno che è questa capacità di cristo di essere presente nella storia anche se molto spesso questa sua presenza si manifesta in forme che appaiono assai fragili e deboli comunque approfondendo lo studio di questa domanda la numero 133 come regna ora il signore Gesù vedremo bene il significato di questa presenza di questa azione di cristo nella storia e cominceremo da questo primo punto questo primo punto che tratteremo proprio oggi nel quale vedremo che cristo regna già nella storia come attraverso la chiesa questo è un po il punto principale che approfondiremo in questa puntata e lo faremo studiando con calma il catechismo che nel suo contenuto specialmente dai numeri 668 fino al 672 cita tantissimo la sacra scrittura per spiegare in che modo cristo regni oggi attraverso la chiesa perché lo fa proprio perché non sembra che la chiesa faccia un po tiri un po acqua al suo mulino si dice no sarebbe spiacevole vedere che la chiesa produce delle verità proprio per per il proprio favore ecco per avere dei vantaggi suoi per darsi arie mi piace molto questo esempio che una volta ho sentito da un padre predicatore che la regina elisabetta non è tale perché una mattina si è svegliata e si è messa sulla corona da sola ecco se fosse stata una donna qualsiasi e la mattina suo marito si fosse presentata con la corona in testa dicendogli io sono la regina d'inghilterra sicuramente suo marito gli ha detto no tu hai perso la ragione è chiaro che sempre citando questo esempio la regina di elisabetta la regina d'inghilterra è tale perché è riconosciuta perché c'è una storia c'è una tradizione c'è una realtà che l'ha portata a essere tale no c'è un riconoscimento anche di un fatto che attiene a alcune circostanze storiche politiche e anche geografiche se vogliamo che hanno fatto sì che quella particolare persona diventasse la regina elisabetta così eppure per la chiesa ecco non è che la chiesa voglia auto incoronarsi e voglia dire di se stessa in maniera arbitraria di essere il segno della presenza di cristo nel mondo come meglio dice il concilio vaticano secondo nella gaudium et spes il sacramento e anche per evitarlo la chiesa si descrive come sacramento di salvezza citando le scritture è un dato di rivelazione è una verità divina è il signore che ha rivelato questo fatto e lo ha rivelato anzitutto attraverso una prassi cioè già quando era presente fisicamente nel mondo gesù non ha fatto tutto da solo è stata una delle prime cose che egli ha deciso di mettere in atto quando ha iniziato la sua missione quella di attorniarsi di alcuni collaboratori di formare un gruppo di amici perché stessero con lui anche per mandarli a fare quello che faceva lui abbiamo già visto che gesù fisicamente presente nel mondo non era in grado di fare tutto da solo non poteva arrivare dappertutto proprio perché aveva deciso di sottomettersi ai limiti dello spazio del tempo cui tutte le creature sono soggette e quindi gesù ha utilizzato questo metodo un metodo ecclesiale un metodo che coinvolge una compagnia di amici di persone che lo stimano che hanno fede in lui ai quali li trasmette anche in fondo il suo stesso spirito sia attraverso l'istruzione cioè istruendoli sul modo con cui egli considera la vita la affronta la vive la vede la giudica sia nella prassi nelle opere trasmettendo loro infondendo loro quel principio divino che permetteva a lui per esempio di compiere dei miracoli quindi già nella vita di gesù noi vediamo ad esempio 72 discepoli che camminano per i paesi della galilea e cosa fanno fanno quello che hanno visto da lui fanno quello che lui gli ha detto e di fatto la gente vedendo quei 72 discepoli in un certo senso incontra già cristo cioè già viene a conoscenza di gesù anche se essi non sono gesù nel senso ontologico del termine cioè noi se non coincidono con la persona di gesù dal punto di vista del loro essere totale però appartengono agli amici di gesù a quella schiera di amici a cui gesù a cui gesù ha voluto conferire questo tipo di possibilità di essere segno della sua presenza e continuità della sua opera quindi vedete che già il signore nella sua vita ha dato questo questo taglio alla sua opera e ha inaugurato questo sentiero cristo è il fondatore della chiesa ecco la fonda proprio in questo modo già quando era lui presente fisicamente nel mondo e poi e poi la chiesa nascente scopre se stessa avverte in sé questa coscienza di sé che le fa capire di essere questa presenza di cristo nel mondo cioè l'esperienza stessa dei primi anni e poi sempre fino oggi ha fatto vedere alla chiesa che non è lei che si autodetermina che si autocostituisce come un una nazione o uno stato di questo di questo mondo in mani secondo quelle che sono le coordinate sociopolitiche tipiche di ogni organizzazione umana ma c'è un principio c'è un fattore determinante nella vita della chiesa che non dipende da lei che è dato proprio da questa presenza di cristo che è il pastore della chiesa io nel mio piccolo me ne accorgo tutti i giorni perché dico se la mia comunità o meglio la comunità che mi è stata affidata dipendesse da me penso che avremmo già chiuso i battenti e avremmo messo sulla porta della chiesa chiuso per bancarotta perché è impossibile che un uomo riesca a guidare una comunità di uomini in un sentiero di fede in un'esperienza di dio questa è una cosa impossibile perché nessun uomo può produrre dio può produrre un'esperienza di dio e quindi è necessario che dio stesso nel suo cristo e attraverso la chiesa che lui ha costituito che lui guida anche con il segno dei pastori legittimamente costituiti ecco è necessario che sia lui a fare queste cose ma vediamo senza perderci nelle chiacchiere che cosa dice il catechismo appunto citando le scritture e ho voluto riportare tutte le citazioni e anche le leggerò tutte in maniera tale che rispettiamo questo metodo che è necessario per mostrare l'autorevolezza di queste affermazioni che si fondano direttamente nel libro e quindi nella rivelazione di dio allora partiamo dal numero 668 che già cita la lettera ai romani al capitolo 14 dice per questo cristo è morto e ritornato alla vita per essere il signore dei vivi e dei morti quindi partiamo subito spiegando qual è il motivo per cui cristo è risorto ecco cristo è morto ed è risorto per essere signore dei morti e dei vivi questa frase lapidaria questa affermazione perentoria è come diciamo un caposaldo della nostra fede che ci fa capire perché qual è il fine per cui gesù ha accettato di essere soggetto alla morte e poi di riprendersi la propria vita l'ascensione di cristo al cielo e quindi ci riagganciamo con le domande precedenti significa la sua partecipazione nella sua umanità alla potenza e all'autorità di dio stesso gesù cristo è signore egli detiene tutto il potere nei cieli e sulla terra egli è al di sopra di ogni principato e autorità di ogni potenza e dominazione perché il padre tutto ha sottomesso ai suoi piedi e qui ovviamente è citata la lettera agli efesini dove c'è quel grande inno che recitiamo tutte le settimane nella nella liturgia delle ore il mercoledì sera mi pare e questo grande inno che viene più volte citato no colui al quale il padre ha fatto ricapitolare tutte le cose in lui tutte furono fatte e tutte furono costituite egli è il capo e il principio di tutte le cose tutte in lui sussistono e allora vediamo proprio queste citazioni cominciando proprio dalla lettera agli efesini al capitolo quarto che dice colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i per riempire tutte le cose quindi cristo non è solo signore della chiesa cioè signori di coloro che credono ma è signore del cosmo di tutte le cose e nella prima lettera ai corinzi san paolo dice ora invece cristo è risuscitato dai morti primizia di coloro che sono morti perché se a causa di un uomo venne la morte a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti e come tutti muoiono in adamo così tutti riceveranno la vita in cristo ciascuno però nel suo ordine prima cristo che è la primizia poi alla sua venuta quelli che sono di cristo poi sarà la fine quando egli consegnerà il regno a dio padre dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potestà e potenza è una sintesi straordinaria questa che paolo fa nella lettera ai corinti e che conclude con queste parole che pure dobbiamo leggere perché sono altrettanto importanti perché ci fanno capire che cristo non è solo signore del cosmo e quindi alla fine egli ridurrà tutto a nulla per consegnare tutto al padre in se stesso ma anche signore della storia lo dice sempre san paolo qualche versetto dopo quando dice perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi però quando dice che ogni cosa è stata sottoposta è chiaro che si deve eccettuare colui che gli ha sottomesso ogni cosa e quando tutto gli sarà sottomesso anche lui il figlio sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso ogni cosa perché dio sia tutto in tutti allora sono come sempre i giochi di parole di paolo che sembrano difficili ma non sono così difficili perché qui basterebbe fare un esempio che gesù stesso fa no è come questo re che aveva questo possedimento terriero e manda alcuni operai o alcuni impiegati meglio a prendersi la sua parte poi gli operai della vigna non solo non danno la parte a questi a questi impiegati ma addirittura li uccidono allora prova una volta prova due volte prova tre volte insomma questo re non riesce ad avere quello che gli spetta allora dice mando mio figlio avranno pietà almeno del mio figlio lo rispetteranno e allora manda suo figlio per avere quello che è suo e anche questo lo lo uccideranno l'epilogo del signore gesù cristo che viene ucciso per invidia sostanzialmente prendiamoci uccidiamo il figlio così l'eredità sarà nostra e qual è questa eredità questa eredità è ciò che il figlio è è la vita uccidiamo il figlio di dio così uccidiamo dio facciamo morire dio così la vita è nostra quanto presente è questa mentalità anche al giorno d'oggi no l'aver fatto fuori dio dalla vita illudendosi di poterla possedere e invece non sappiamo neanche che cosa ci succederà tra dieci minuti siamo in balia degli eventi noi siamo creature è un'illusione pensare di avere la vita avendo ucciso dio avendo tirato fuori dio dalla nostra esistenza anzi diventiamo ancora più schiavi perché si diventa schiavi delle circostanze di tutto chi non crede più a dio arriva veramente a credere a tutto e lo vediamo basta vedere magari qualche puntata distriscia la notizia vedete quanti maghi quanti stregoni quanta gente che illude per soldi tanta gente si lascia si lascia imbrogliare perché perché ha perso il senso della realtà avendo smarrito la fede e chiudo la parentesi perché questo ci fa capire che cristo è vero che viene ucciso ma è vero anche che attraverso questa morte riscatta la vita e quindi si riprende pienamente ciò che è suo e quindi riscatta l'umanità nella sua obbedienza e la riporta al padre riporta tutto al padre tutto quello che era stato perso a causa del peccato dell'uomo dio lo riscatta attraverso gesù cristo e se lo riprende si riprende l'uomo e tutta l'umanità e chi è di cristo è salvo ecco questa è un po la sintesi proprio il succo più stringente della verità della redenzione quindi in lui la storia dell'uomo come pure tutta la creazione trovano la loro ricapitolazione proprio una un ricapitolare tutte le cose in cristo è un termine che usa sempre san paolo nella lettera gli effesini che ci dice il senso della compimento della creazione la creazione è rimasta non solo è rimasta incompiuta perché mancava ancora qualcosa da capire ma anche era rimasta danneggiata fortemente ferita dalla peccato dell'uomo dalla disobbedienza dell'uomo che aveva cercato di crearsi un mondo senza dio cioè un piccolo inferno tramutando questo mondo in un falso paradiso illusorio e invece un mondo senza dio è un inferno e quindi questa ricapitolazione che viene descritta appunto da san paolo e vale la pena veramente che leggiamo una parte dell'inno bellissimo della lettera gli effesini e questo all'ode e gloria della sua grazia che ci ha dato nel suo figlio di letto nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo sangue la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia egli l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza poiché egli ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà secondo quanto nella sua benevolenza aveva in lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi il disegno cioè di ricapitolare in cristo tutte le cose quelle del cielo come quelle della terra e qui il catechismo ci tiene a sottolineare che questa ricapitolazione non è un evento storico diciamo politico cioè non attiene alle coordinate con cui noi siamo abituati a pensare il potere che è appunto un esercizio di potestà di autorità di libertà degli individui sulle realtà spazio temporali oppure sulle persone quanto invece è un dominio che ha un compimento trascendente cioè questa ricapitolazione in cristo che è iniziata con la sua pasqua con la sua morte risurrezione ascensione al cielo dove siede alla destra del padre è iniziata ma deve ancora concludersi e si compirà alla fine dei mondi quando appunto cristo riprende si riprenderà proprio tutto avrà conquistato tutto e quindi lo presenterà il padre riscattato nel regno che verrà e questo regno non avrà mai fine ecco il numero 669 va ancora avanti e questa volta dopo aver fatto questi enunciati solenni di apertura comincia ad approfondire il tema della chiesa che appunto come abbiamo visto è il primo segno che cristo regna nella storia la chiesa è quel segno che non dovrebbe esserci di per sé e continuamente se ne annuncia la sparizione in qualche modo si dice che è destinata a finire eccetera eccetera perché invece poi continua rinasce si ripresenta e questa chiesa è segno della presenza di cristo proprio perché anche corpo di cristo e allora in questo numero si sviluppa proprio questo tema della chiesa come corpo di cristo un concetto che ha sviluppato san paolo a partire dall'esperienza che lui ha fatto lui stesso ha fatto di cristo il quale ha detto di sé a quel saulo che lo perseguitava e in realtà perseguitava la chiesa dice perché mi perseguiti identificando appunto se stesso con la sua comunità questo numero 669 dice elevato al cielo e glorificato avendo così compiuto pienamente la sua missione egli permane sulla terra nella sua chiesa la redenzione e la sorgente dell'autorità che cristo in virtù dello spirito santo esercita sulla chiesa e sempre negli efesini cito con il catechismo cita due passaggi dice tutto infatti ha sottomesso i suoi piedi e lo ha costituito su tutte le cose a capo della chiesa questo è dio padre poi di cristo si dice al capitolo quarto è lui cristo che ha stabilito alcuni come apostoli altri come profeti altri come evangelisti altre come pastori e maestri per rendere idoni i fratelli a compiere il ministero al fine di edificare il corpo di cristo finché arriviamo tutti all'unità della fede della conoscenza del figlio di dio allo stato di uomo perfetto nella misura in cui conviene alla piena maturità di cristo e questo è evidente no dobbiamo immedesimarci nei primi discepoli negli apostoli e gesù va al cielo sta non c'è più la sua presenza fisica e nemmeno lo si vede più ne in queste apparizioni che gli aveva fatto da risorto manda il suo spirito nella pentecoste e gli apostoli cominciano la loro la loro impresa si uniscono i primi ne battezzano diversi sono tantissime le persone che restano entusiaste nel vedere la parresia la franchezza la forza di questi testimoni la loro credibilità la loro autorevolezza che non viene da loro ma pensiamo anche a questi che dicono ogni giorno e adesso cosa facciamo con questa gente adesso come li organizziamo adesso come andiamo avanti capite volete che queste persone questi discepoli che erano gente comune del popolo erano per lo più erano lavoratori e erano operai erano pescatori sapessero costituire delle società così articolate così complesse come erano in effetti già le chiese dei primi decenni pensiamo alle grandi chiese di antiochia di corinto di efeso di roma non erano società semplici erano già società organizzate benché non fossero particolarmente estese tuttavia avevano già un'organizzazione interna ebbene questa organizzazione cresceva per il rispondere di alcuni bisogni che c'erano nella chiesa ma anche erano erano suggerite dal cristo che era lui che stabiliva e disponeva attraverso il suo spirito nella comunione della chiesa questi servizi questi ministeri queste articolazioni che andavano via via crescendo del resto pensiamo fin dall'inizio per esempio per decidere il successore di giuda e cosa fanno gli apostoli si riuniscono in preghiere in preghiera e gettano la sorte su mattia e poi così pure quando c'è da dirimere una questione interna si riuniscono nel 50 dopo cristo quindi meno di vent'anni dopo nel diciottesimo diciassettesimo anno della vita della chiesa si riuniscono tutti quanti e pregano lo spirito santo di ispirare alcune decisioni importanti che daranno un indirizzo fondamentale alla chiesa del futuro aprendola al mondo pagano quindi vedete che costantemente la chiesa fin dall'inizio fin dal primo giorno si sa guidata dal signore perché si vede guidata dal signore quegli uomini sapevano benissimo di non essere in grado di fare qualcosa come la chiesa capite e quindi quando paolo dice è lui che ha stabilito alcuni come apostoli altri come profeti altri come evangelisti lo dice non perché vuole giustificare una posizione che è stata costruita a tavolino e quindi ci appiccica la l'etichetta teologica capite ma perché ha visto nell'esperienza che è successo così quindi la chiesa suo corpo è dice il catechismo il regno di cristo già presente in mistero non coincide in realtà col regno di cristo perché è più grande della chiesa regno di cristo ma è la presenza del regno di cristo l'inizio e il concilio ecumenico vaticano secondo nella lumen gentium al numero 3 e al numero 5 dice che la chiesa di questo regno costituisce in terra il germe e l'inizio l'altro numero numero 670 dice che dopo l'ascensione il disegno di dio è entrato nel suo compimento noi siamo già nell'ultima ora ne parla pietro nella sua prima lettera anche lui dopo una lunga esperienza pastorale dice queste parole le scrive la fine di tutte le cose è vicina siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera è una sintesi di un uomo che ha raggiunto la sapienza anche non solo dell'età ma dell'esperienza che ha fatto e giovanni la sua prima lettera scrive figlioli questa è l'ultima ora come avete udito che deve venire l'anticristo di fatto ora molti anticristi sono apparsi di questo conosciamo che è l'ultima ora da questo e poi anche il concilio sempre nella lumen gentium dice già dunque arrivata a noi l'ultima fase dei tempi e la rinnovazione del mondo è stata irrevocabilmente fissata in un certo modo è realmente anticipata in questo mondo infatti la chiesa già sulla terra è adornata di una santità vera anche se imperfetta quindi è già cominciato questo fine perché cristo è già venuto e la chiesa è già presente è santa anche se di una santità ancora imperfetta il regno di cristo manifesta già la sua presenza attraverso i segni miracolosi che accompagnano la vita della chiesa fin dall'inizio ma gesù l'aveva già annunciato e che accompagnano anche l'annunzio da parte della chiesa la chiesa annuncia ma ci sono anche dei segni straordinari le conversioni che non vengono meno ma anche prodigi guarigioni infatti straordinari oppure anche opere straordinarie gestite con una precarietà una povertà di mezzi assoluta come per esempio radio oreb che è evidente che un'opera di dio perché va avanti con mezzi veramente sobri e poveri e questo secondo me scusate l'ardire ma è un prodigio che accompagna l'annuncio della parola perché non si spiegherebbe altrimenti l'esistenza di opere come queste perché tanti dicono sono pieni di soldi così perché vedono esternamente no le opere della chiesa in realtà chi è dentro sa benissimo come vanno le cose è vero purtroppo ci sono anche delle realtà che hanno queste contraddizioni e questi sprechi talora purtroppo però vi assicuro che non è sempre così o almeno nel nostro caso non è così allora poi abbiamo il 671 dice già presente nella sua chiesa il regno di cristo non è tuttavia ancora compiuto con potenza e gloria grande l'aveva detto gesù nel vangelo di matteo quando racconta una delle tante parabole in cui descrive il giudizio finale e l'epilogo di tutte le cose nei novissimi quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli si siederà sul trono della sua gloria quindi il regno di dio si compirà con la venuta del re sulla terra quando lui verrà sedendo sulla sua gloria questo regno è ancora insidiato dalle potenze inique ecco perché per esempio la chiesa non è non è ancora perfetta non è tutta santa noi sappiamo che è peccatrice anche in molti suoi membri lo vediamo dai molti scandali che vengono alla luce per fortuna che vengono anche alla luce tutto sommato perché aiuta non può emendarsi e quindi questo regno è ancora insidiato dalle potenze inique anche se esse sono già state vinte radicalmente dalla pasqua di cristo fino al momento in cui tutto sarà a lui sottomesso fino a che non vi saranno i nuovi cieli e la terra nuova nei quali la giustizia la sua dimora la chiesa pellegrinante sempre all'umegentium la chiesa pellegrinante nei suoi sacramenti e nelle sue istituzioni che appartengono all'età presente porta la figura fugace di questo mondo e vive tra le creature le quali sono in gemito e nel travaglio del parto sino ad ora e attendono la manifestazione dei figli di dio per questa ragione i cristiani pregano soprattutto nell'eucarestia per affrettare il ritorno di cristo dicendogli vieni signore come si dice anche nell'apocalisse colui che attesta queste cose dice si verrò presto amen vieni signore gesù sono le ultime parole della bibbia e poi l'ultimo numero poi prendiamo prendiamo un po di fiato è l'ultimo numero portate un po pazienza abbiamo il numero 672 che dice prima della ascensione cristo affermato che non era ancora il momento del costituirsi glorioso del regno messianico atteso da israele regno che doveva portare a tutti gli uomini secondo i profeti l'ordine definitivo della giustizia della amore della pace il tempo presente è secondo il signore attenti perché è il nostro tempo è è il nostro tempo il tempo dello spirito e della testimonianza ma anche un tempo ancora segnato dalla necessità e dalla prova del male che non risparmia la chiesa e inaugura i combattimenti degli ultimi tempi è un tempo di attesa e vigilanza ecco queste sono le parole della chiesa vedete che sono parole di un grande realismo tante volte ci si stupisce come faccia per esempio il papa rimanere sereno con tutti i problemi che ha da disbrigare ogni giorno pensate che gli arrivano tutti i drammi della chiesa sparsa nel mondo noi neanche sappiamo come tribola la chiesa nel mondo quanti cristiani ci sono perseguitati per esempio che vengono uccisi che vengono violati nei loro diritti fondamentali il papa conosce queste situazioni come fa a starsene di sereno perché ha ben chiara come esperienza di fede questa consapevolezza che il tempo presente il tempo dello spirito della testimonianza è un tempo ancora segnato dalla necessità che non risparmia dalla prova del male e dal male stesso che non risparmia la chiesa inaugura i combattimenti degli ultimi tempi è un tempo di attesa e di vigilanza adesso prendiamo un po di fiato e ascolteremo un brano una composizione molto bella una cantata di un autore forse poco conosciuto ma non per questo non importante non rilevante si tratta di dietrich boxtoide che fu un musicista anzitutto un organista del a cavallo tra il diciassettesimo e diciottesimo secolo nacque intorno al 1637 e morì nel 1707 di origini danesi e influenzò tuttavia moltissimo l'arte musicale organistica della germania del nord lo stesso johan sebastian bach fu fortemente influenzato da questo autore che conobbe tra l'altro perché intraprese un viaggio per sentirlo suonare a lubecca dove lui era esercitava appunto il suo servizio di organista fin dal 1668 e poi anche lo stesso endel visitò lubecca un po più tardi nel 1703 e fu anche egli molto colpito da questo autore che diciamo fino a pochi anni fa era apprezzato solo per l'arte organistica mentre negli ultimi anni si è scoperto anche nella musica e nelle opere da camera che che hanno rivelato un genio che già si intravedeva ovviamente nella musica organistica soprattutto per quel che riguarda la tradizione contrapuntistica nel quale egli avrà una grande ispirazione personale più libera e fantasiosa rispetto a quanto si sapeva prima e anche e anche nel brano che noi sentiremo questa mattina ci accorgeremo di questa di questa capacità di improvvisazione anche che c'è in queste in queste opere straordinarie che sono appunto connotate da questa tecnica del contrapunto che poi caratterizzerà tantissimo le opere di buck e stamattina ascolteremo un brano tratto da un ciclo di sette cantate intitolate membra jesu nostri le membra del signore nostro gesù cristo e questa cantata riprende un testo noto come orazio ritmica oppure anche salutare salve mundi che è una poesia scritta dal poeta mediovale arnolfo di lovanio morto nel 1250 è un testo diviso in sette parti ognuna indirizzata una parte diversa del corpo crocifisso di cristo piedi ginocchia mani lato petto cuore e testa noi considereremo il lato ad latus appunto nel quale si cita in questa parte il cantico dei cantici alzati amica mia mia bella e vieni colomba mia nascosta tra le pietre della roccia nelle cavità del muro ecco questa cavità che già i padri della chiesa individuavano essere il costato aperto di cristo noi ascoltiamo questo brano perché ci richiama la porta che si è aperta per la storia per l'umanità in quel costato trafitto è una porta è la porta del tempio da cui sgorga copioso un torrente d'acqua viva che guarisce l'umanità la redime la riscatta e la riporta al padre è da quella porta che noi possiamo entrare per accedere alla divinità attraverso la scoperta di dio che è amore che dona suo figlio ce lo dona così e ci apre la porta del cielo e così questa porta aperta costantemente vive nella chiesa che contempla il costato aperto del suo sposo va e riposa in quel cuore ascoltiamo dunque ad latus dall'opera membra jesu nostri di dietrich buxtoide sorge sorge amiche suonare 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 Incavenna mace, incavenna mace Incavenna mace, incavenna mace Surge, surge, amicame Scriciosa, ame, mette Incavenna mace, incavenna mace Incavenna mace, incavenna mace Incavenna mace Incavenna mace Incavenna mace Incavenna mace Salveinacu salvadois Eppolotet mellulcoris, il popatet visamoris, exquascatet vols cruoris, qui portam la mazzorbitat. Eppolotet mellulcoris, il popatet visamoris, exquascatet vols cruoris, qui portam la mazzorbitat, qui portam la mazzorbitat. Eppolotet mellulcoris, il popatet visamoris, qui portam la mazzorbitat. Eppolotet mellulcoris, il popatet visamoris, qui portam la mazzorbitat. Strutari tua vulvera 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 che purtroppo è corsa via e non c'è stata la possibilità di fare grandi approfondimenti perché i temi sono tanti che vengono approfonditi c'è una postilla diciamo che però è importante dal punto di vista teologico anche storico che riguarda la speranza di Israele cioè quell'aspetto dalla venuta gloriosa di Cristo del suo ritorno del suo regno che coinvolge il popolo eletto di Dio che ha un grande mistero il popolo di Dio Israele l'antico Israele rimane un mistero nella storia ancora presente vive sussiste in questo vediamo la fedeltà di Dio però ci si domanda quale sarà il ruolo di questo Israele che pure è beneficiario delle promesse di Yahweh allora ci sono due numeri il numero 673 e il numero 674 del catechismo che ne parlano li vediamo velocemente dopo l'ascensione la venuta di Cristo nella gloria è imminente l'abbiamo visto nell'Apocalisse Gesù che dice si verrò presto amen anche se non spetta a noi conoscere i tempi i momenti che il padre ha riservato la sua scelta in questi giorni si parla sempre del 2012 come una data fatidica ma se stessimo ascoltare Gesù diceva non seguiteli non ascoltateli queste profezie non hanno nessun fondamento sono curiose attirano senz'altro l'interesse di tanta gente ma dal punto di vista della fede sono dannose perché sono contrarie quanto Gesù ci ha detto di non di non affannarci troppo dietro a queste cose perché solo il padre sa quando sarà il momento quindi si disgrazi ce ne sono costantemente quindi stiamo nelle mani del Signore senza perdere troppo tempo su prognostici o profezie che lasciano anche un po' il tempo che trovano questa venuta escatologica può compiersi in qualsiasi momento tant'è vero che il Signore ci ha detto di essere pronti perché nell'ora che non immaginate il figlio dell'uomo verrà e nella prima lettera ai tessalonicesi San Paolo dice infatti voi ben sapete che come un ladro di notte così verrà questo giorno quindi potrà venire in ogni momento anche se essa questa venuta di Gesù e la prova finale che la precederà sono impedite sono impedite e cosa vuol dire che sono impedite leggiamo la seconda lettera ai tessalonicesi che ce lo spiega nessuno vi inganni in alcun modo prima infatti dovrà venire l'apostasia e dovrà essere rivelato l'uomo iniquo il figlio della perdizione colui che si contrappone e si inalza sopra ogni essere che viene detto Dio o è getto di culto fino a sedere nel tempio di Dio aditando se stesso come Dio non ricordate che quando ancora ero tra voi venivo dicendo queste cose e ora sapete ciò che impedisce la sua manifestazione che verrà nella sua ora il mistero dell'iniquità è già in atto ma è necessario che sia tolto di mezzo chi finora lo trattiene solo allora sarà rivelato l'empio e il Signore Gesù lo distroggerà con il soffio della sua bocca e lo annienterà l'apparire della sua venuta l'iniquo la cui venuta verrà nella potenza di Satana con ogni specie di portenti di segni di prodigi menzogneri e con ogni sorta di empio inganno per quelli che vanno in rovina perché non hanno accolto l'amore della verità per essere salvi e per questo Dio invia loro una potenza di inganno perché essi credano alla menzogna e così siano condannati tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma hanno consentito all'iniquità quindi questa prova finale è impedita diciamo o meglio questa venuta che viene impedita viene ostacolata da queste prove che attraversano diciamo tutta la vita della Chiesa e del mondo e di tutte le persone che sono appunto gli inganni di questo nemico di questo anticristo che cerca di questo mistero di iniquità il mistero del male, il male che c'è nel mondo, il male morale che costantemente affligge l'uomo e infine poi l'articolo che parla di Israele, la venuta del Messia glorioso è sospesa in ogni momento della storia al riconoscimento da parte di tutto Israele quindi dipende anche questo perché secondo San Paolo questo è un dato di rivelazione Cristo verrà quando tutto Israele sarà salvato come sta scritto da Sion uscirà il liberatore e gli toglierà le impietà da Giacobbe allora quindi questo riconoscimento è frenato da parte dell'indurimento di una parte che appunto si è indurita nell'incredulità verso Gesù San Pietro dice agli ebrei di Gerusalemme dopo la Pentecoste pentitevi dunque e cambiate vita perché siano cancellati i vostri peccati e così possano giungere i tempi della consolazione da parte del Signore ed egli mandi quello che vi aveva destinato come Messia cioè Gesù egli deve essere accolto in cielo fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose come ha detto Dio fin dall'antichità per bocca dei suoi sacri profeti e San Paolo ancora gli fa ecco se infatti il loro rifiuto ha segnato la riconciliazione del mondo quale potrà mai essere la loro riammissione se non una risurrezione dei morti? la partecipazione totale degli ebrei alla salvezza messianica a seguito della partecipazione totale dei pagani permetterà al popolo di Dio di arrivare alla piena maturità di Cristo nella quale Dio sarà tutto in tutti questo è un punto abbastanza misterioso sul quale non voglio neanche soffermarmi più di tanto proprio perché temo di dire cose che vanno al di là delle nostre capacità di comprensione e si tratta proprio di un grande mistero vedete ci sono due grandi misteri uno è il mistero iniquitatis come viene chiamato cioè il mistero del male che c'è nel mondo e che è l'apostasia, il rifiuto di Cristo, di Dio il tentativo di costituire un mondo senza Dio il fatto che arrivino tanti anticristi che cercano di costruire idoli, immagini o sistemi anche, grandi sistemi ideologici, politici che si contrappongano a Cristo o culturali anche e poi il grande mistero del popolo eletto il popolo di Israele, i nostri fratelli maggiori come sono stati definiti da Giovanni Paolo II che secondo San Paolo determinerà in qualche modo il ritorno del Signore quando tutto Israele accoglierà la rivelazione di Cristo e quindi accoglierà compiutamente la rivelazione di Dio che si compie in Cristo e su questo non voglio fermarmi di più appunto perché come vi ripeto è una cosa molto misteriosa che provoca molto, che interroga molto e sulla quale però possiamo attingere alcuni esempi straordinari penso per esempio a Santa Benedetta della Croce Edith Stein che appartenendo al popolo ebraico ha scoperto in Cristo e nella Chiesa Cattolica un vero compimento di quel percorso straordinario che è dato proprio dall'antica alleanza fino a dire nel momento in cui i nazisti andavano a catturarla presso il monastero carmelitano di Echt in Olanda dove si era rifugiata con sua sorella Rosa andiamo a morire per il nostro popolo ecco queste furono le parole che disse Edith Stein già Cattolica riconoscendo che la sua nuova fede la sua fede era un compimento del percorso antico e sentendosi in questa fede pienamente appartenente al popolo di Israele e questi esempi possono essere un grande aiuto per comprendere questo mistero veramente grande che è appunto questo riconoscimento di tutto Israele citato da San Paolo nella Lettera ai Romani al capitolo 11 grazie a tutti